Il mio lavoro è molto semplice perché mi chiamo Gianluca Fasteni e per cui fin da ragazzino tutti gli amici fast 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 e per cui da lì insomma è nato questo diciamo acronimo unendo nome e cognome e poi comunque c'è un piccolo aneddoto che insomma riguarda un po' il fatto che io ero in contatto con un giornalista insomma che ahimè non c'è più che era Ernesto De Pascale che in qualche modo mi suggerì questo nome per cui insomma orgoglioso di questo me ne presi diciamo possesso bella domanda allora partiamo dal presupposto che sono veramente tanti perché comunque insomma non ho mai amato avere un insomma un punto insomma fisso diciamo che partendo da l'uso delle origini per cui John Lee Hooker Raul in Wolf questi personaggi qua fino ad arrivare anche alle cose diciamo un po' più attuali tipo anche Reggio di Is The Machine o cose anche più insomma particolari tipo Tom Waits insomma sono veramente tante chiaramente le influenze e comunque gli ascolti per cui questi qua sono dei nomi buttati lì però chiaramente insomma c'è tanta braccia nel fuoco come si suol dire insomma Allora Go To Mars è praticamente un disco che è nato mentre comunque facevo un sacco di date per cui come presupposto parte il viaggio che è la cosa poi più interessante di ogni no percorso non è l'arrivo ma fondamentalmente è poi tutto il viaggio che ci sta mi sono immaginato questo viaggio su Marte dove però non era il classico viaggio insomma che si può immaginare di astronauti o cose del genere ma una sorta di arca di Noè dove io imbarcavo questi dieci personaggi che sono poi le dieci storie che sono dentro insomma il disco e questi personaggi mi raccontano le loro storie durante questo viaggio e da lì insomma io poi metto questi racconti diciamo in canzone ed è venuto fuori questo concept diciamo di disco infatti Go to Mars Mars è puntato ed è la cronica di My Alternative Rebelship che sarebbe questa mia insomma sorta di nave se vogliamo dire spaziale alternativa però io la reputo più un'arca di Noè ecco bella domanda questa e sarebbe stato bello saperla prima però vabbè diciamo che insomma forse un Vinicio Caposela o comunque personaggi che insomma fanno cose un po' un po' fuori dagli schemi diciamo particolari ecco poi vabbè magari se vogliamo scendere un po' più di nome insomma ci sono altre situazioni molto interessanti che potrei citare tra i quali insomma dei Cybrors con il gruppo romano che fanno comunque il elettro bulking blues così interessante ma anche probabilmente qualche altro woman band no? perché io fondamentalmente sono quello un disco del cuore un disco del cuore guarda è molto anche questo difficile un po' da decidere però insomma potrei dirti forse uno di quelli che mi ha influenzato di più che forse è stato Experience di Jimi Hendrix Progetti per il futuro sostanzialmente io ho fatto solo al secondo album e le ho scritte due in inglese per cui il terzo album molto probabilmente avvierò questa nuova sfida di provare a fare un disco di italiano questo è anche uno scurto tra l'altro meglio di così però questo è un progetto per il futuro andare avanti a fare dischi suonare live e cercare di arrivare se è possibile a più gente questo è un po' il punto d'arrivo di tutti i musicisti e riuscirci chiaramente a tra virgolette sopraviderci a di Grazie a tutti.